Ciao ragazzi, oggi vediamo come collegare stereo a un prodotto di potenza del PC la prima cosa da fare è collegare il cavolo verde dell'ATX con un cavolo nero lo puoi fare con un po' o con il soccolo di motherboard dopo questo prendiamo un cavolo nero e un giallo quindi abbiamo 12V per potere il stereo ora necessitiamo i 2 iso connetori che sono normalmente trovati nel carro seguiamo i fili inizio dal stereo e connetiamo insieme il giallo e il rosso per fare il positivo e il nero farà il negativo ovviamente nel ATX connetiamo il cavolo positivo con il giallo e il negativo con il nero nel connetto del speaker solo connetiamo i fili con la polarità per ogni speaker che vogliamo connetere ricordate di isolare tutto correttamente e mettere il radio sotto il fuso per evitare la malattia ok ragazzi è tutto per questo video grazie per la visione e abbiatevi al mio canale per non perdere i video futuri